Oh Enrico, sono Max, ascolta, puoi anche non venire più perché abbiamo trovato uno che ti sostituisce che è più simpatico di te ed è anche uguale come sta, le dimensioni sono uguali, le dimensioni sono identiche, è più simpatico di te e va anche, e va anche forte, perciò Enrico tu puoi stare a casa, ma sai perché, per così fai compagnia Francesca, basta, poi non serve più neanche il piccamo perché tanto c'è il mio spazio, esatto, Vabbè esatto, qualche volta ci alterniamo, se siamo uguali, siete uguali, guarda la faccia, Max, è uguale, è uguale ad Enrico, è uguale identico, dobbiamo dargli un soprannome, adesso lo troviamo, eh sì.